Attualizzare la cultura classica per rimettere al centro l'approfondimento e la riflessione sulla civiltà greca e latina e aprire a una migliore comprensione delle sfide del presente e del futuro. È l'obiettivo dell'iniziativa che vede protagonista il liceo classico Machiavelli di Lucca, dove sono in programma tre seminari nell'ambito del progetto, Noi e gli Antichi. Il problema è anche quello di arginare il calo delle iscrizioni e di invertire la tendenza di una progressiva disaffezione dallo studio della cultura classica. Intende riavvicinare i giovani e quindi praticamente i miei coetanei al mondo della storia classica, al mondo degli antichi appunto, per dimostrare quanto i loro insegnamenti siano ancora attuali oggi e possano essere anche una chiave per comprendere meglio il futuro e magari anche il presente e magari anche il futuro. Quindi un percorso di crescita, di condivisione, che sicuramente sarà molto utile ai nostri giovani, apriendo la strada a loro per un futuro più errosio e più luminoso.